Siamo qui allo stand Deep Silver per parlare un pochino di Resen 2, questo nuovo RPG che arriverà su console oltre che su PC, adesso faremo qualche domanda per capire meglio cosa possiamo aspettarci dal gioco. Sohai, guardando indietro al primo Resen, cosa pensi non abbia funzionato e cosa invece credi abbia avuto successo? Credo che una cosa assai riuscita del primo Resen fu tutto il design dell'ambientazione, così come il gameplay e la fantastica esperienza RPG. Quello che non è andato per il verso giusto è stata la mancanza di attaccamento emozionale con i personaggi. Lo stesso valeva anche per i personaggi chiave della storia. Entravi nel gioco, facevi qualche quest con loro e poi sparivano. Inoltre la rappresentazione grafica di Resen non era in pari con la tecnologia del momento. Per Anya Bytes può fare molto meglio di Resen 1 e lo dimostreremo con Resen 2. L'aspetto principale che differenzia il primo e il secondo capitolo è l'ambientazione. Come mai avete deciso di cambiarla? Il cambio di ambientazione era necessario perché abbiamo ritenuto importante portare una ventata d'aria fresca nel mercato degli action RPG. Poi è stato piuttosto facile passare ad un contesto piratesco perché i pirati facevano già parte dell'universo di Resen, basta ricordare il personaggio di Patty. Lei è la figlia di Barba d'Acciaio, uno dei più potenti bucanieri dei mari del sud. E anche prima nella serie Gothic, Piranha Bytes ha utilizzato il tema piratesco come in Gothic 2 Night of the Raven. È un territorio abbastanza conosciuto per gli sviluppatori e mostra la loro forza in termini di scrittura dei dialoghi e di realizzazione di un mondo realistico e oscuro. Ecco perché l'ambientazione piratesca si adatta alla perfezione. Credo che con questo cambio di ambientazione Resen 2 sembri almeno una prima occhiata, molto simile alla serie Fable. È una cosa della quale avete discusso? Credo che chi ci segue farà sempre dei confronti. Abbiamo letto tantissimi paragoni con Fable e inoltre c'è stato tanto parlare riguardo all'ambientazione piratesca che può apparire ispirata ad alcuni film. Ma quando si lavora con altre persone creative in una stanza, spesso vengono fuori idee molto simili. Credo che un setting piratesco sia ancora assai originale e comunque Fable si scosta da molte cose che stiamo realizzando. Credo che Resen offrirà un'esperienza RPG assai più profonda rispetto alla serie Fable. Ho visto durante la presentazione che hai menzionato il sistema dei compagni. Puoi spiegarmi meglio la connessione tra le navi e i compagni? Quello che possiamo rivelare qui all'E3 è che il giocatore può avere la propria nave. L'arco narrativo di Resen 2 parte dalla fine dell'inquisizione e dal protagonista che viene cacciato per alcuni comportamenti sbagliati e finisce per diventare un capitano dei pirati. Ogni capitano ovviamente ha bisogno della propria nave, sulla quale c'è una ciurma che oltre a creare un attaccamento emotivo permette di avere dei compagni da portare con sé in brevi viaggi. Così è possibile partire all'avventura con loro e talvolta reagiranno in base alle vostre azioni. Tenteranno di darvi suggerimenti su come proseguire nel gioco o si intrometteranno nei dialoghi. Il giocatore potrà così aspettarsi sempre cose nuove da Resen 2. Inoltre credo che si stia tornando per certi versi alla serie Gothic dove tutti parlavano di Lester, Milton e di altri personaggi memorabili. Erano memorabili perché erano sempre presenti all'interno del gioco e vogliamo provare a fare la stessa cosa con Resen 2 e con la ciurma della nave. Il primo Resen fu molto criticato per via del porting su Xbox 360. È una cosa che state prendendo in considerazione per il seguito? Lavorerete meglio questa volta con la versione console? Assolutamente sì. Puntiamo a un'uscita contemporanea su Xbox 360, PlayStation 3 e PC e a differenza di Resen 1. Stavolta abbiamo cominciato lo sviluppo parallelo fin dall'inizio. Il primo Resen non era stato concepito come un gioco console e solo in un punto assai avanzato dello sviluppo abbiamo deciso di fare una versione Xbox 360. Con Resen 2 la cosa è cambiata drasticamente e questo è il motivo per cui la versione non definitiva per console si presenta molto meglio di quella finale del primo Resen. Ci sarà qualche differenza tra la versione PC e quella console oltre all'aspetto grafico? A dire il vero no, i controlli saranno diversi, ma a parte questo il gioco sarà lo stesso, senza modifiche o semplificazioni per i giocatori console rispetto a quelli PC. Non credi quindi che i giocatori console abbiano bisogno di semplificazione nel gameplay per giocare meglio al titolo? Non il pubblico hardcore direi. Su console bisogna differenziare tra giocatori casual e hardcore. Il tipo di gioco che Piranha Bytes sta creando con Resen 2 non è molto adatto ad un pubblico casual. Resen 2 è un gioco per giocatori pronti a impegnarsi e a investire molto tempo nell'esperienza. Se seguiamo questo principio allora non abbiamo bisogno di semplificazioni per i giocatori perché credo ci siano anche utenti console che vogliono giocare ad un RPG molto profondo ed emozionante. Il gioco quando uscirà? Resen 2 uscirà all'inizio del 2012, prima metà del 2012. Grazie a voi.